Sarà necessaria una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per discutere della realizzazione della scala mobile alla gradinata Silvio Pellico, che collega via Cavour a via Crispi. La seduta, fissata per lunedì 25 luglio alle 19, è stata chiesta dai consiglieri comunali di opposizione, che vogliono chiedere numerosi chiarimenti all'amministrazione comunale su diversi aspetti, in primis i costi di gestione della struttura e dei vari interventi da effettuare, visto che, a loro dire, manca chiarezza. L'opera è già stata finanziata con 500 mila euro di fondi devoluti dal Ministero dell'Interno e nelle scorse settimane l'assessore comunale Marcello Frangiamone, da noi interpellato sulla vicenda, aveva spiegato che l'opera sarà totalmente interrata e che verranno messe in atto le procedure per garantire un impatto ambientale nullo. Ai nostri microfoni il consigliere Oscar Aiello, primo firmatario della richiesta di fissare il Consiglio Comunale straordinario. Abbiamo preso atto, principalmente dalla stampa, che il Comune ha beneficiato di un finanziamento di 500 mila euro per realizzare nella scalinata di Vio Pellico una scala mobile. Il Consiglio Comunale non è stato preventivamente informato, non sappiamo i dettagli, ciò che verrà realizzato, una delle più belle scalinate della città di Caltanissetta, che dovrebbe, potrebbe essere stravolta con un'opera sicuramente utile, però una volta che non sappiamo nulla, soprattutto sui costi poi di gestione, di manutenzione, è proprio ritenuto opportuno convocare un Consiglio Comunale affinché si possa discutere in Aula Consigliare sull'opportunità o meno di realizzare quest'opera e soprattutto come, in che tempi e che costi poi il Comune dovrebbe sostenere.